I sindaci del territorio del Parco dei Nebrodi fanno quadrato attorno all'ormai ex assessore regionale al territorio e ambiente Mariella Lobello e firmano un accorato appello al presidente Crocetta affinché ritorni sui propri passi. Mariella Lobello ha sicuramente brillato per presenza, disponibilità e riconosciute capacità, scrivono 25 sindaci dell'area nebroidea Crocetta. L'assessore Lobello prosegue la nota, più di tanti altri esponenti del governo regionale è stata il nostro certo e affidabile punto di riferimento e allo stesso tempo punto di riferimento per tutto il territorio di nostra competenza. Una presa di posizione forte e chiara dunque da parte dei rappresentanti politici del territorio nebroideo, stimolata dal presidente dell'ente Parco Giuseppe Antoci che sin dal suo insediamento ha mostrato grande sintonia di intenti con l'assessore Lobello. Attorno all'assessore Lobello, si legge ancora nella nota, si è costruito consenso e progettualità condivise politicamente bipartisan perché l'onestà e la serietà, come quella che l'assessore Lobello ha dimostrato di avere, non hanno certo bandiera. Una missiva che a quanto riportano i rumors di Palazzo d'Orlean difficilmente però potrà trovare accoglimento vista la morsa politica nella quale Crocetta e il suo governo si sono infilati tra frizioni e fratture delle forze alleate. Dallo scontro sanguinoso tra le varie aree del PD alle spaccature interne dell'Udc fino ai mal di pancia di riformisti e articolo 4 il termometro politico che misura il clima rovente attorno alla regione infatti sembra rendere davvero oggettivamente poco credibile una lunga sopravvivenza politica dell'esperienza crocettiana. Grazie a tutti.